la parata girù la parata girù la parata girù la parata girù la canta anche il pastore che c'è laggiù in fondo la parata girù ciao a tutti ragazzi bentornati benvenuti nuovo video qua da lolly to the wild oggi ho cambiato giro ragazzi perché ci tenevo di solito quando arrivo a questa parte della mia corsa domenica la parte che c'ho la sciatica quindi oggi faccio fatica sono passato di qua e ho iniziato a farvi questo video perché ragazzi il san culino grandissimo il santuario del san culino ragazzi e non potevo non portarvi qua cioè ci ho pensato ho detto no cioè i fratelli e le sorelle li devo portare qua li devo portare qua dove c'è il san culino raga perché se la merita san culino se la merita tutta 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 scusate è un pezzo che sono un po di di mosche qua se la merita tutta ragazzi il san culino ci ha protetto ci ha fatto fare un inizio di stagione la sentite l'aria sentite sentite l'aria possiamo dirlo no scusate chiedo no per per quelli che l'altra volta mi dicevano no lollo non puoi dire che siamo primi in classifica perché loro dicevano avete capito che mi riferisco perché dobbiamo ancora giocare non puoi dirlo nei tuoi video posso dirlo adesso no chiedo 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 anche al pastore scusi posso dirlo che il milano è primo in classifica no chiedo perché quelli là mi hanno detto che non si può chiedo io chiedo in giro chiedo se si può non si può è sempre meglio informarsi primi in classifica aria aria buonissima da primi in classifica ragazzi finalmente oggi parliamo di due o tre cosine che ieri nel bordello generale del post partita del miliardo di post che sono usciti ovunque la pagina e avete guardato il mio video in tantissimi mi avete scritto in un miliardo di persone mi sono dimenticato di sottolineare due cose importanti comunque facciamo un attimo un percorso in questo video che bello è il san culino ragazzi hashtag san culino ti amo perché se oggi siamo in primi in classifica si può dire se siamo primi in classifica e ancora grazie sempre grazie a san culino che ci ha protetto allora facciamo ieri vi ho detto una cosa facciamo un attimo un percorso vi stavo dicendo questo video allora ieri nel video di ieri post partita a parte i miei deliri che tra l'altro anche oggi perché sono contentissimo parlando del più e del meno parlando della 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 insomma della partita io ieri vi ho fatto una domanda e vi ho detto ma chi mai chi mai avrebbe pensato avrebbe pensato che oggi in questo momento questo punto di agosto oggi saremmo stati a questo punto in classifica ma ridurre tutto il nostro percorso appunto soltanto alla ai punti che sono che squadra tieni a tiene l'atalanta lui ve l'ho detto che sono un sacco di tifosi atlanta ciao e ridurre soltanto il discorso del il milano ha fatto bene o il milano ha fatto male solo ed esclusivamente ai punti che ci vedono primi in classifica se si può dire che si può dire si può chi che se si può dire sarebbe riduttivo sarebbe riduttivo andiamo a vedere le partite in tutte le partite che noi abbiamo giocato da inizio stagione ad oggi campionato ne abbiamo giocate otto sette le abbiamo vinte e una partita abbiamo preso schiaffi destra e manca pam 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 ok le due partite di champions nelle due partite di champions meritavi ampiamente di vincere ambe due le partite di champions il pareggio contro il dortmund la a casa loro c'è po anche sta ok diciamo che c'è po anche sta la partita in casa con il new castle con il nuovo castello quella invece dovevi vincerla quindi in tutte le partite occhio perché io dico le strano guardate che bello o è pieno di api perché dico le stronzate per farci due risate perché oggi è l'all into the wild sono felice però ragionamento ragazzi in tutte le partite dall'inizio dell'anno ad oggi il minano ha sbagliato solo la partita contro l'inter e voi direte ne hai presi 5 sì ok va bene il calcio è così però andate a vedere il milan in tutte le altre partite o le ha vinte come quelle di ieri ah perché poi volevo dirvi una cosa poi vi dico le due cose importanti che nessuno vi ha detto della partita di ieri fatemi capire sta roba fatemi capire sta roba se il milan vince le partite alla fine è culo è culo non i milanisti eh gli altri eh ma no ma che culo avete vinto la partita alla fine se invece la loro squadra vince le partite alla fine lollo carattere carattere abbiamo vinto la partita alla fine carattere mia squadra a carattere ma come quando la vinco io mi dici che c'ho culo e quando la vicita invece mi dici che c'hai carattere c'è c'è questa ambivalenza nella valutazione del medesimo episodio che è una cosa che ogni volta mi fa incazzare perché arriva un altro che corre che squadra tieni a juve ok ciao grazie anche a te poi abbiamo trovato un atalantino abbiamo trovato uno juventino quindi c'è questa questa ambivalenza capito nella valutazione del medesimo episodio che è culo culo ieri noi abbiamo avuto un po di culo è perché la traversa cioè lì è proprio san culino che ha messo appoggiato le mani sulla palla e la trasportate per quello che hashtag san culino oggi ha portato la palla direttamente sulla traversa e ci ha fatto godere copiosamente perché poi ma voi immaginate tanto siamo tra di noi siamo solo tra di noi 25 mila ma ragazzi ma voi vi immaginate chi sperava e dico così per non prendere di mira nessuno ma voi immaginate chi sperava nella perdita del mila ieri che rosicata ha fatto cioè che rosi immaginate pam pam e così si sentiva ieri sera infatti sono uscito ho aperto la finestra ho detto ma cioè non so sta succedendo qualcosa sono sono ci sono i fuochi d'artificio e invece non erano i fuochi d'artificio erano i fegati i fegati che scoppiavano di quelli che speravano in una perdita del mila ma voi vi immaginate giallizza era zero giallica era giallica anche tifosi del mila sappiate quelli che vanno sempre contro tutto e invece poi alla fine i gol di chris pulisic ah non c'è mano e quindi rosicata perché il gol secondo loro è fatto di mano espulsione di maica adesso gli hanno espulso l'ail il portiere e adesso pigliano il gol punizione deviazione traversata rosicata li rosicavano nel loro stomaco va in porta oliviero super parata di oliviero riparte l'azione espulsione per il portiere del genoa big chissà che chissà che rosicata che hanno tirato ragazzi saranno stati lì tutta notte a ripensarci svegliano che dormivano così dormivano non è rigore non è rigore no ma mano mano pulisici fallo di mano fallo di mano così hanno fatto tutta notte così ragazzi sto male sto male e due cose che nessuno vi abbia ancora raccontato riguardo al la partita di ieri torniamo seri vabbè ragazzi sono così figuratevi oggi quanto quanto sono di super buon umore oggi allora torniamo un attimo seri partita di ieri due cose nessuno a nessuno m'è incluso ha sottolineato una la parata di mike raga fantascienza fanta vorrei una fanta cosa intende fantascienza questa è una cheat di ritorno al futuro fantascienza ragazzi allora tecnicamente gli arriva la palla sulla destra si butta per prenderla con la mano destra il tutto deciso in una frazione di secondo quando capisce che con la mano destra non ci arriva si allunga con la mano sinistra si allunga con la mano sinistra e va a prenderla con la mano sinistra gesto tecnico d'altri tempi gesto tecnico come una rovesciata cioè capito come quando vedi il gol di rovesciata di qualcuno e dici io è uguale cioè mike ha fatto una roba del genere quindi super super magic mike ragazzi prima cosa che nessuno si è dimenticato ripeto ma è incluso di sottolineare seconda cosa qua entriamo sapete che noi piace fare con le robe lì da da zabette entriamo un attimo nella polemica ci buttiamo a capofitto nella polemica perché fine partita parla credo che sia non lo so zangrillo vabbè presidente del genova proprietario del non presidente forse vabbè parla della partita giustamente in modo educato senza insultare nessuno espone quelle che sono le sue idee e uno chiede vediamo adesso quanto verrà per quante giornate verrà mandato espulso no mike magnan perché rosso diretto una giornata non era assolutamente volontario cioè non è che salta con in mano un bastone salta per fare il suo intervento gioco pericoloso rosso var quello che volete hanno deciso così non mi metto in mezzo nelle decisioni arbitrali in questo caso aspettate rosso cosa cosa non capisco dove qual era il punto di arrivo di chi ha commentato questa cosa cioè cosa cosa volevi di più di quello c'è più del rosso davar diretto mike magnan cosa volevi non so partita vinta non esiste una sanzione del calcio non esiste una sanzione disciplinare più alta del rosso quindi sinceramente con tutto rispetto per zangrillo ci mancherebbe ognuno deve essere liberissimo di esprimere la propria opinione non capisco che cosa cosa voleva più di più di questo poi altra decisione arbitrale che voglio un attimo discutere con voi è questa vi ricordate e a questa nessuno ve la nessuno ve l'ha raccontato me incluso vi ricordate quando a un certo punto parte il contropiede del milan nella stessa azione in cui si piglia il rosso il portiere del del genoa salve che squadra tifi bene allora devi fare il milan salve salve buona giornata buona giornata non ho capito cosa mi ha detto ragazzi allora stavo dicendo nell'azione quella dove il milan dove il genoa portiere del genoa prende il rosso se andate a vedere a un certo punto quando l'arbitro ferma il gioco e sinceramente perché ferma il gioco mia opinione personale ok fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate il milan si trova con rafaleao con la palla in mezzo tra i piedi e in mezzo se non ricordo male chris pulisic da solo da solo ragazzi se glielo appoggia chris pulisic va in porta non avremo mai la controprova se alla fine il gol lo fai oppure no però è un dato di fatto concreto che viene interrotto a un'azione che sarebbe stato una possibilità di fare il 2 a 0 per il milan quindi non lo so ragazzi non lo so non lo so allora poi c'ho tutto un discorso da farvi su ma lo faremo faremo avremo tempo in queste due settimane che bello raga che bello ho pensato tutto ho dormito poco anch'io perché avevo un sacco di adrenalina post parti cioè non come era fallo di mano qualcuno non ha dormito per quello come è possibile già lì che pregustavano non ho capito ma non soltanto i tifosi d'altre squadre ragazzi ma anche anche i tifosi del mio sapete quelli che tifano milan ma in realtà non tifano milan cioè tifano tifano contro cioè tifano per dire di aver ragione avete presente quel tifoso lì che vabbè e pensate come hanno rosicato tutta notte vabbè dai poi avevo tutta una storia da farvi dei degli acquisti delle rose eccetera eccetera però vabbè poi ne parleremo sono stracontento ragazzi sono stracontento di questo milano sono stracontento stra felice di questo inizio di stagione mi sta divertendo un sacco questo milan e secondo me non abbiamo ancora visto il vero milan perché ci manca ancora il ciucu che deve arrivare ad alti profili voglio schierare la mia formazione titolare con un po di continuità visto che non mi è stato possibile per via degli infortuni come ogni anno da inizio stagione raga sono contento sono proprio contento ragazzi oh vi saluto vi ringrazio come sempre scusate il video dell'all into the wild che come sempre è un video cacciarone vabbè però ci sta ragazzi ci sta l'all into the wild è così e basta forza milan e iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto un saluto a tutti forza milan che è la cosa più importante poi c'è l'altra cosa che è importante anche lei che va da vecchio l'inter ciao ciao a tutti ciao